Stai bene? Circa una persona su dodici del pianeta contrarrà la malattia. Un attacco? Non hai visto niente visibile prima? No. Alcuni dicono che le autorità non abbiano fatto l'autopsia. Hanno inserbiato tutti. Mostra delle caratteristiche nuove. Che le è successo? Brucia i campioni. I servizi segreti porteranno il presidente in un luogo sicuro. Sapremo di cosa si tratta. Contagion. Venerdì alle 21. Sul 20. La bugia è scarsa.